www.ufocontact.it vi faranno vivere l'emozione del contatto con una realtà che è sempre più tangibile, sempre più vicina al nostro mondo, il mondo di UFO Contact. www.ufocontact.it è considerato unico nel suo genere, delle sfere luminose che sorvolando un campo imprimono quasi istantaneamente una figura nel grano in esso seminato, figura che appartiene a un fenomeno conosciuto comunemente con il nome di cerchi nel grano o crop circles in lingua inglese. Molte polemiche sono sorte intorno all'autenticità di questo filmato, ma vero o falso che sia, ciò non intacca il fascino di questo fenomeno. Fascino che dall'estate del 1981 ha spinto ad un attento ed appassionato studio investigatori di varie parti del mondo, investigatori che, con fervore quasi religioso, stanno cercando di dare una risposta ad uno dei più grandi enigmi del nostro tempo, l'enigma dei cerchi nel grano. Il fenomeno dei cerchi nel grano iniziò a manifestarsi sporadicamente già dagli anni 60 in Australia, ma è dagli inizi degli anni 70 che cominciò ad apparire con una certa regolarità sui campi coltivati con vari tipi di cereale. Grano, orzo, avena, colza o semplicerba sono le colture maggiormente interessate da questo fenomeno. Il periodo nel quale si formano i cerchi va dalla fine della primavera, quando gli steli hanno già raggiunto una certa altezza, a fine estate, quando le colture sono praticamente giunte a maturazione. All'inizio cominciarono a manifestarsi cerchi singoli e relativamente piccoli, ma dalla metà degli anni 80 cominciarono ad apparire gruppi compositi. Il loro numero crebbe costantemente fino al 1989 e comparirono soprattutto nelle contè inglesi dello Wildshire e dell'Ampshire, allargandosi successivamente a tutta l'Inghilterra e a molti altri paesi del mondo. Germania, Italia, Ungheria, Canada, Giappone, Porto Rico e Stati Uniti sono solo una piccola parte degli stati dove si è manifestato il fenomeno. Nel 1990 si verificò un notevole salto di qualità e quantità, oltre 1200 cerchi con formazioni sempre più complesse ed elaborate, definite pittogrammi. La loro grandezza è estremamente variabile, da poche decine di centimetri a varie decine di metri di diametro, mentre le figure più grandi e complesse raggiungono i 300 metri di lunghezza, interessando una superficie di oltre 10.000 metri quadrati. Tra i più seri e qualificati ricercatori che attualmente si stanno occupando dello studio di questo fenomeno, abbiamo i pionieri Colin Andrews e Pat Delgado, a cui successivamente si sono aggiunti Michael Esman, George Winfield, Busty Taylor e per quanto riguarda aspetti particolari legati a questo fenomeno, Robert Dean e l'italiano Giorgio Bongiovanni. Quest'ultimo in particolare per quanto riguarda l'aspetto psichico e trascendentale di questa manifestazione. Dei cerchi ciò che colpisce maggiormente a prima vista è l'estrema precisione con cui vengono impressi e il senso spiraliforme con cui gli steli sono adagiati sul terreno. Molte volte inoltre sono intrecciati e disposti su strati orientati alternativamente. Le circonferenze sono nette, come eseguite da un enorme compasso, mentre le piantine non risultano mai danneggiate. Lo stelo è curvato alla base e la pianta continua a crescere normalmente, ma in senso orizzontale. L'impatto con la grande potenza e fascino dei cerchi nel grano viene molte volte descritto dalle persone come qualcosa di illuminante, di profondamente spirituale, reazione avuta anche dai più quotati studiosi che spesso provengono da discipline molto razionali e concrete. Di professione faccio l'ingegnere elettronico. Per conto del governo mi occupo dell'energia elettrica nell'area centrale del sud d'Inghilterra. Era un giorno normale per me, era il 1983 e mi recavo in auto dal mio ufficio a quello del governo e a circa credo 35 miglia da Stonehenge e nell'area centrale del sud d'Inghilterra. Mi è semplicemente capitato di guardare fuori dal finestrino dell'auto. Era un tratto collinare ed ero solo in macchina. Ho solo guardato da quella parte e ho visto una croce. C'erano cinque cerchi che formavano una croce, come i segni dei dadi. Il grande cerchio al centro era di circa 20 metri di diametro e i quattro satelliti intorno erano di circa 4 metri. Fermai la mia macchina. Non avevo mai visto niente del genere prima, non ne avevo nemmeno mai sentito parlare. Ho guardato le spirali formate da quelle meravigliose messe dorate. È stato veramente speciale. Non sono mai stato in grado di spiegarlo adeguatamente con le parole. Ma è successo qualcosa dentro di me, qualcosa quasi di religioso, di molto spirituale. Ancora oggi mi emoziono quasi sino alle lacrime quando ci penso. Ha cambiato la mia vita. I cerchi nel grano hanno messo in grande imbarazzo e confusione la scienza ortodossa e le stesse istituzioni politiche e militari che attraverso i mass media e nella persona di esperti o presunti tali inventano le più incredibili e astruse spiegazioni per screditare ed inquadrare i crop circles nell'ambito di una fenomenologia dovuta a cause naturali o a burle ideate da sedicenti buontemponi. Tra le varie teorie avanzate possiamo ricordare i vortici di vento stazionari, virus o funghi non meglio identificati e addirittura quella che spiegava i cerchi come il risultato di furiose corse circolari di porcospini in amore. A queste sicuramente risibili spiegazioni se ne affiancarono altre apparentemente più serie quali la teoria del dottor Terence Maiden. Questi identificava la causa dei cerchi in non meglio precisati vortici di plasma. Ma con l'improvviso aumento della complessità delle figure questa teoria perse definitivamente credibilità. Sono poche le notizie sui cerchi nel grano che attraverso i mass media hanno generato grande scalpore a livello mondiale. Tra queste c'è sicuramente la storia pubblicata a caratteri cubitali da un giornale scandalistico inglese dei due pensionati Doug Bauer 67 anni e Dave Chorley 62 anni. Questi due arzilli pensionati secondo le loro affermazioni sarebbero gli autori di tutti i cerchi nel grano. Affermazioni che appaiono assurde considerando l'età dei due uomini, le numerose notti insonni e l'enorme mole di lavoro necessari per creare migliaia di figure, alcune lunghe oltre 200 metri e coprenti superfici di 10.000 metri quadrati. Oltre naturalmente all'impossibilità di trovarsi contemporaneamente in nazioni e continenti tanto diversi quanto lontani, teatro della comparsa di questo fenomeno e che sino ad oggi ammontano ad un totale di oltre 25 stati. Trovo divertente che quando Doug e Dave hanno cominciato il loro stupido programma di mazzicare attorno al grano con le loro tavole e i loro fili, i cerchi siano diventati sempre più complicati, più belli e più intricati come per dire ok vediamo se Doug e Dave riescono a fare questo. Alcuni dei cerchi nel grano sono così complicati, così belli e così precisi che è impossibile anche solo tentare di falsificarli. Quindi l'intelligenza che li crea ci sta dicendo fate attenzione voi non potete fare questo, solo noi lo possiamo fare. In ultimo Doug e Dave hanno dato prova della loro tecnica di falsificatori di fronte alle telecamere ma dopo sbuffi, sudore e fatica il risultato è stato decisamente mediocre senza andare a considerare la totale assenza di tutte le altre componenti fisico, chimiche, matematiche e simboliche proprie dei veri crop circles. Fenomeni simili ai cerchi nel grano si sono manifestati anche in Italia. Il professor Antonio Chiumiento è tra i ricercatori che si sono maggiormente occupati di investigare questi eventi. Io andai e feci un immediato sopralluogo e mi feci aiutare anche da diversi specialisti in determinati settori, ad esempio un ingegnere cartografo, esperti di agraria eccetera e cominciai appunto a raccogliere la documentazione. Inizialmente si cercò di dare una risposta convenzionale sulla causa di questi fenomeni ma la misura perfettamente uguale delle tracce sembrava escludere questa possibilità. Si fece avanti anche il sospetto che la causa di queste anomalie potesse essere dovuta all'uso di agenti chimici di vario tipo ma le successive analisi effettuate grazie all'iniziativa del professor Chiumiento sembrano escludere qualsiasi ipotesi di questo genere. Tutti i campioni furono fatti sulla base delle indicazioni fornitemi in particolare dal ricercatore Alessandro Dattilo che lavora al centro ricerca aerospaziale Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli che fu aiutato anche da un altro ricercatore, Vicenzo Iorio, sempre abitante in un paese della Campania. Mi diedero la buona notizia che non solo i terreni erano i campioni, erano puri, non avevano contaminanti e non indicavano nessuna contraffazione ma diedero l'ottima notizia che avevano ravvisato un effetto di irraggiamento da microonde. che trova consistenza, ha trovato fondamento che una qualche forma intelligente extraterrestre abbia interagito in Arba, Malnisio e Maniago. Ricordo che ci troviamo a poca distanza dalla base USAF nato di Aviano che è stata nel passato più lontano e meno lontano teatro di numerose segnalazioni di avvistamento che non sono state assolutamente spiegate. Certamente in alcuni aspetti fisici queste interazioni si differenziano sostanzialmente dalla fenomenologia tipica dei cerchi nel grano. Vi sono però interessanti similitudini sia per quanto riguarda le energie coinvolte che per la forte attività UFO presente in queste zone. Nonostante i cerchi nel grano siano un fenomeno a carattere mondiale, praticamente nessuno dei grandi mass media ha parlato seriamente dell'argomento. Nessun giornalista si è preoccupato di informare il pubblico sui risultati delle analisi fatte dai ricercatori più seri, sui campioni prelevati nei siti interessati dal fenomeno, analisi che, nella maggioranza dei casi, evidenziano lo stesso tipo di alterazioni. Prima di tutto sul luogo si trova radioattività, anomalie radioattive. Si trovano cambiamenti molecolari e genetici nel grano, si trovano indicazioni di grande calore. Nelle formazioni false ogni cosa è semplicemente abbattuta, mentre nelle formazioni reali gli steli vengono deformati, vengono scaldati per un breve periodo di tempo, uno o due secondi e cambiano solo forma. Crediamo sia causata da una specie di radiazione a microonde. Non c'è modo di imitare la bellezza immacolata del vero fenomeno, come uno stelo è posto vicino all'altro, a volte sono intrecciati. Non abbiamo tutti questi elementi in un falso, abbiamo solo imitazioni primitive. Le alterazioni della struttura fisica e molecolare delle piantine prelevate all'interno dei cerchi risultano molto evidenti nelle analisi al microscopio, analisi effettuate anche da studiosi di fama mondiale, quali il biochimico statunitense professor Livingood dell'Università del Michigan. Un altro fatto che ha sconcertato gli studiosi è stato la scoperta di forti campi energetici all'interno dei siti dove compaiono i crop circles. Questi campi di energia hanno spesso interferito con le sensibili strumentazioni delle truppe televisive che si recavano in loco per intervistare i ricercatori. A tutto ciò si aggiunge la scoperta fatta dall'ingegnere aerospaziale britannico Roy Dutton. Egli ha dimostrato che la spirale secondo cui si dispongono le spighe nei crop circles corrisponde ad un preciso modello matematico, modello impossibile da riprodurre anche da parte del più abile falsario di cerchi del nostro pianeta. Sappiamo che ci sono degli schemi intricati nel modo in cui il grano si interseca e ciò avviene in base ad un processo matematico. Quindi penso che l'intero fenomeno sia una forma geniale ed elettromagnetica di comunicazione. Altre componenti matematiche di grande importanza e di straordinaria portata legate al fenomeno dei crop circles sono state scoperte dal dottor Richard Oakland. Questo ricercatore già collaboratore della NASA è noto per aver partecipato al progetto della targa lanciata nello spazio con la sonda Pioneer. Recentemente hanno fatto grande scalpore i suoi studi sulle costruzioni e sulla sfinge rinvenute su Marte nella regione denominata Sidonia. Oakland ha scoperto che c'è una corrispondenza strabiliante nelle componenti matematiche costruttive dei monumenti marziani e dei resti archeologici che si trovano nell'antico sito sacro di Avebori in Inghilterra. E, cosa ancora più incredibile, che la disposizione topografica di questi monumenti terrestri e marziani è sovrapponibile come se entrambe le aree si rifacessero allo stesso progetto di base. Successivamente, analizzando la struttura matematica di alcune figure formate dai cerchi nel grano, Oakland ha scoperto che anche alla base del progetto costruttivo di questi disegni vi sono le stesse componenti matematiche tetraetriche riscontrate sui monumenti della valle di Sidonia su Marte e di Avebori in Inghilterra. La matematica e l'astronomia si dimostrano linguaggi universali, un concetto che spirò Oakland e gli altri studiosi quando progettarono la targa posta sul Pioneer e che è stato adottato anche dai creatori dei crop circles. Il messaggio di pace inviato nel cosmo è tornato sulla Terra, nello stesso idioma. Da quanto sinora emerso nelle analisi scientifiche che abbiamo esposto, risulta certamente difficile sostenere ancora l'origine naturale o addirittura fraudolenta di queste sconcertanti figure. Ma allora, se questo fenomeno è reale, chi sono i geniali artefici dei cerchi nel grano? Quali intelligenze vi sono coinvolte? Cosa vogliono trasmetterci? La risposta a queste inquietanti domande riveste sicuramente una grande importanza per la nostra umanità. Importanza certamente condivisa dai ricercatori, le cui indagini, pur necessitando ulteriori riscontri, iniziano a fornire le prime sorprendenti deduzioni. Molti dei cerchi nel grano sono antichi simboli sacri e credo che significhino qualcosa, come il ritorno degli antichi dei, il ritorno di coloro che hanno istruito l'umanità nel passato. Ora sono di nuovo qui per preparare nuovamente l'umanità e renderla cosciente di un futuro dialogo con l'universo. Sono d'accordo con Michael, sono totalmente d'accordo con lui. molti dei simboli che abbiamo visto hanno esempi riscontrabili nei tempi antichi, nei sumeri, nei celti, negli indiani dell'America del nord e dell'America del sud. I simboli sono molto simili, alcuni sono specificatamente identici, altri variano di poco, ma si possono trovare nelle antiche culture. Penso che una delle motivazioni che stanno dietro questo fenomeno sia il tentativo di scuoterci, di farci realizzare che dentro di noi c'è molto di più di quanto non manifestiamo attualmente nella vita di tutti i giorni. Viviamo una vita che sta diventando sempre più frenetica e confusa, che ci conduce lontano dalla spiritualità, lontano dalla purezza e dalla connessione tra noi e la natura. I cerchi non solo hanno manifestato simbologie comuni ad antiche culture come la sumerica e l'egiziana, ma hanno descritto veri e propri concetti filosofici, matematici, astronomici, esoterici e spirituali. Molti dei simboli comparsi con i cerchi nel grano sono stati riconosciuti con grande emozione dagli sciamani e dai saggi di tribù originarie di vari continenti, che hanno identificato in essi concetti appartenenti alla loro tradizione religiosa e spirituale. Tradizione che fa nuovamente riferimento al ritorno degli antichi dèi, che già nel lontano passato furono portatori di conoscenza e saggezza. Entriamo più in profondità nel merito di alcuni di questi simboli, con l'intenzione di metterne in risalto il significato intrinseco e non solamente la parte scientifica e razionale. Molta gente sta cercando di applicare parametri fisici e razionali ad un fenomeno che si sta rivelando essere bene al di sopra di noi. Il fenomeno ha già attratto e focalizzato la nostra attenzione per il suo simbolismo molto potente e particolare. Questo evolversi delle forme segue una logica evolutiva. I crop circles nascono inizialmente come semplici cerchi, due in fila, tre in fila, cinque, che formano una croce, per poi sfociare in quelle enormi e complesse geometrie che penso riflettano i nostri tentativi di muoverci verso qualcosa di più evoluto. Se la figura dominante nei pitogrammi è il cerchio, sicuramente non è un caso. Il cerchio, in quasi tutte le antiche culture, simboleggia la totalità, il tutto, l'unità intrinseca di ogni manifestazione, cioè a dire che dietro all'apparente diversità vi è un'intima unione in tutte le cose. Questa figura, riconducibile all'antica tradizione religiosa dei celti, rappresenta una croce con un cerchio, significa la predominanza dello spirito sulla materia. È comparsa per la prima volta nella contea dello Wiltshire, il 10 settembre 1988. In questo pitogramma compare un simbolo appartenente alla scrittura cuneiforme sumerica ed è denominato d'ingir, significa i giusti con le celesti navi di fuoco. È interessante ricordare che il vice sceriffo Lonny Zamora, il 24 aprile 1964, vide aterrare nel Nuovo Messico un'astronave aliena che portava sul fianco lo stesso simbolo. Il pitogramma è apparso il 24 luglio 1992, sempre in Inghilterra. Nella notte del 23 luglio 1991 apparve in Germania uno dei più grandi e complicati pitogrammi tedeschi. Rappresenta un'immagine simbolica del nostro sistema solare. Il mistero si infitti ulteriormente quando alcuni giorni dopo un giovane munito di metal detector si mise a scavare nel terreno all'interno del pitogramma e trovò le piastre che stiamo vedendo. Queste piastre erano una d'oro, una d'argento e una di bronzo e incredibilmente vi era impressa la stessa figura del pitogramma. Le analisi effettuate sui metalli hanno evidenziato un grado di purezza praticamente impossibile da ottenere sulla terra, oltre alla difficoltà di realizzare una lega di questo tipo. E si ritiene che il significato di questo pitogramma e delle stesse piastre sia l'uomo si unirà agli dei, a condizione che il suo spirito sia maturo per comprendere il significato. Spirito, vita, sapienza e conoscenza saranno i pilastri della nuova era. Dall'analisi delle figure impresse sulle piastre metalliche sono emersi altri dati che si pensa riguardino il passaggio della cometa Hale-Bopp. Perciò il messaggio si completerebbe in questo modo. Il collegamento tra cielo e terra ricomincia e la Hale-Bopp lo annuncia. Il 16 luglio 1991 compare nello Wilshire uno dei più complessi, affascinanti e grandi pitogrammi mai visti sino ad allora, con i suoi 100 metri di lunghezza ed una superficie di circa 10.000 metri quadrati. Secondo gli studiosi questo pitogramma rappresenta il principio del tre in uno e quindi la divinità. Infatti la superficie del cerchio centrale è esattamente la somma dei tre che lo circondano. Una simbologia questa già nota agli studiosi dell'alchimia e delle scienze esoteriche dove appunto indica la divinità. Questo importante simbolo fu scoperto il 13 agosto 1991 nei pressi di Cambridge. Gli esperti di matematica vi individuarono subito il cosiddetto diagramma di Mandelbrot. Un diagramma che si rifà la matematica dei frattali, formule che, rappresentate con la grafica computerizzata, mostrano analogie sorprendenti con le forme che conosciamo in nature. La figura impressa nel grano non era una semplice rappresentazione, ma un vero e proprio diagramma di Mandelbrot, matematicamente esatto. Un diagramma tanto complesso che risulta impossibile da disegnare anche in piccole dimensioni senza l'ausilio di un computer. Figuriamoci farlo grande 56 metri in un campo di grano. Il diagramma di Mandelbrot orbita nella sfera della teoria del caos dove rappresenta il momento del passaggio dal caos all'ordine ed è sicuramente questo il messaggio principale che vuole trasmettere. Questo è un altro interessante pittogramma che sembra fare riferimento alla cometa Heilebob. È apparso il 26 giugno 1995 in Inghilterra. Lo studioso Paul Vigay sostiene che la configurazione qui espressa di Marte, Venere, Mercurio e della Terra rispetto al Sole sono relative ad una particolare posizione della cometa Heilebob. Nell'orbita della Terra manca il cerchio che simbolegge il nostro pianeta, probabilmente ad indicare che un qualche vento legato alla cometa coinvolgerà la nostra umanità. Un altro esempio di come la Heilebob sembra essere indicata dai cerchi nel grano come segno premonitore di importanti avvenimenti allo scadere del ventesimo secolo. Questa figura è comparsa l'8 luglio 1996 vicino a Stonehenge. È formata da 151 cerchi separati con diametri variabili dai 60 centimetri ai 13 metri e con una lunghezza complessiva di circa 300 metri. Rappresenta la spirale positiva, simbolo di crescita, di evoluzione. Si è stabilito che questa stupenda formazione corrisponde ad un preciso diagramma composto dalla computazione di equazioni frattali, quindi molto simile matematicamente e simbologicamente al diagramma di Mandelbrot. Una ventina di giorni dopo, nella zona di Avebori, Wiltshire compare questa nuova incredibile formazione che rappresenta uno sviluppo geometrico della precedente figura. È stata sviluppata secondo la progressione matematica di Fibonacci, nella quale la misura successiva è la somma delle due precedenti. È sino ad oggi il più grande complesso di cerchi mai apparso, con le sue 194 circonferenze e una lunghezza di 350 metri circa. Appare come la rappresentazione di una galassia a spirale, simile a quella in cui si trova il nostro sistema solare. Di una figura apparsa il 17 giugno 1996, sempre nello Wiltshire in Inghilterra, il fisico nucleare Rodolfo Garrido ha dato una interessante interpretazione in un programma televisivo messicano sui cerchi nel grano, condotto dal giornalista e ricercatore Hema Ossan. Ho relazionato varie immagini con alcuni grafici che sono usati nella scienza astronomica. Si può osservare come in questi grafici si presentino le tracce delle orbite delle lune di Giove. Se confrontiamo questa immagine con la figura apparsa, precisamente il 17 giugno del 1996, la somiglianza risulta meravigliosa. La frequenza che appare descritta in questa immagine non si ripete in nessun'altra parte del nostro sistema solare. Di conseguenza dobbiamo rapportarci alle uniche che vi somigliano e in questo caso sono precisamente quelle di Io ed Europa. Un incredibile inaspettato avvallo ad un messaggio divulgato negli anni 90 dal contattista italiano Eugenio Siragusa. Questa figura descritta dall'ingegner Garrido viene riscontrata, si riscontra la spiegazione in un messaggio che Eugenio Siragusa ha diffuso negli anni 90, nel 1995, e cioè quando egli informò la stampa e il mondo di un messaggio che aveva ricevuto dagli extraterrestri e cioè che i pieni satelliti di Giove, Io ed Europa possiedono la vita. E in questa figura, così come ha spiegato l'ingegnere, abbiamo la valla a questo messaggio. Molte altre figure rappresentate con i cerchi nel grano sono state interpretate, decifrate ed il contenuto è sempre riferito a cognizioni che possiamo trovare in molte culture. Nei pittogrammi vi è quindi una mirabile concomitanza di fattori legati ad antiche conoscenze, con elementi estremamente moderni legati alle più recenti scoperte scientifiche. Un altro fatto che desta grande sconcerto è il profondo coinvolgimento emotivo, provato da moltissime persone la prima volta che vedono i cerchi. Emozione che spesso non ha niente a che vedere con il significato del simbolo rappresentato. Simbolo che la maggior parte delle volte viene decodificato e compreso solo dopo un accurato ed attento studio. Sembrerebbe quasi che queste figure riescano a comunicare istantaneamente ad un livello subliminale. non comunicano con noi nel nostro linguaggio, comunicano ad un livello subcosciente, non cosciente, comunicano letteralmente con il nostro spirito. E questo è il significato dei crop circles degli UFO. Sono meccanismi intriganti, meccanismi per stimolare una reazione in noi, una maggiore coscienza e consapevolezza. L'associazione del fenomeno UFO a quello dei cerchi nel grano nasce dal fatto che in oltre il 20% dei casi c'è stata la concomitanza di avvistamenti in prossimità e sulle specifiche zone dove sono comparsi crop circles. Esistono inoltre numerose testimonianze di persone affidabili che hanno assistito alla creazione di crop circles in presenza di UFO che sorvolavano il posto. Il video realizzato in Inghilterra, nei pressi di Oliver Kessel, dove compaiono delle sfere di luce che creano istantaneamente un pittogram, sembra aver confermato questa relazione, rafforzando la tesi che i cerchi nel grano siano creati da civiltà extraterrestri. Nonostante ciò, questo sconcertante documento ha generato molti dubbi non solo negli scettici, ma anche in alcuni studiosi. Sembra che tre persone di cui non conosco il nome siano state coinvolte nella costruzione di questo materiale, per far sì che noi lo rendessimo noto al pubblico, per poi più tardi farci passare come inaffidabili e per danneggiare e screditare sia il fenomeno che noi stessi. È veramente preoccupante che noi tutti stiamo sperimentando problemi di questo tipo, mentre dovremmo essere fieri di aver progredito in questo campo. Purtroppo la nostra situazione viaggia sempre in concomitanza con queste forze oscure. Ci sono forze parallele che non vogliono farci progredire e questo potrebbe esserne un esempio. Il materiale potrebbe anche essere reale, ma è stato utilizzato in modo molto ambiguo. Queste affermazioni indicano il clima di timore sospetto, nel quale spesso sono costretti a lavorare gli studiosi che si occupano di questi fenomeni, ma l'investigatore americano Jim Dilettoso, esperto in sistemi computerizzati di analisi videofotografiche e già consulente della NASA. Analizzando questo filmato, ha dichiarato che il video molto probabilmente è reale. La mia opinione sul video di Oliver Castle è che non esistono evidenze di falsificazioni. Quello che abbiamo sono delle sfere che volano sopra un campo e al loro passaggio, sulla loro scia, si crea un corp circle. Ci sono dichiarazioni da parte di ricercatori inglesi ed americani che hanno analizzato il filmato in cui affermano che si tratta di un falso. Io contesto questo. Prima di tutto nessuno di loro si è fatto avanti quando ho richiesto di mettere pubblicamente su internet i risultati dei loro test. Secondo, entrando nel dettaglio delle informazioni verticali sul nastro, per informazioni verticali intendo le caratteristiche del segnale, non delle immagini, ma del segnale. Perciò il punto chiave è se le immagini del video di Oliver Castle siano state fatte in forma digitale. Con la parola digitale intendo dire l'eventuale utilizzo di un computer. Nell'intervallo verticale della copia che noi abbiamo non vi è alcuna prova che l'immagine sia stata digitalizzata. I cerchi erano realmente lì. Quindi qualcuno necessariamente è dovuto andare là a posizionare la telecamera e a filmare il cerchio. Successivamente avrebbe dovuto invertire il processo, cioè far rialzare il grano, perciò eventualmente dovrebbero aver disfatto il crop circles non fatto. Per falsificare questo video avrebbero dovuto invertire il processo rispetto a questo schema spiraloide che abbiamo identificato analizzando l'immagine. Ma se avessero invertito il processo e fatto risollevare perfettamente il grano ci sarebbero state delle prove. Più tracce di questa azione, ma non ce ne sono. Quindi trovo difficile credere che ci sia stato un animatore così abile da falsificarlo. Dalle analisi è emerso inoltre che c'è un'effettiva relazione tra le sfere e i cerchi che si formano. Dopo aver fatto tutto questo abbiamo analizzato quadro per quadro le caratteristiche ottiche dell'immagine. Abbiamo fatto una simulazione ricostruendo quadro per quadro l'attività dell'immagine di quello che sta accadendo e abbiamo verificato che ogni cerchio è parte di questa formazione a spirale che si sta formando. Questa è un'immagine che abbiamo ricostruito come se ci trovassimo sopra le sfere. Questa è la simulazione di ciò che le sfere facevano al loro secondo passaggio perché nell'originale le due sfere volano intorno liberamente e ad un tratto una arriva da questa direzione. L'altra arriva da qui facendo un altro giro sicuramente per la trazione magnetica o per quello che sia e qui termina. Perciò questo è il suo ultimo giro. È evidente che dopo che le sfere sono passate per la prima volta il grano stia ancora girando lievemente. Si muove. Questo è a metà strada dall'esterno. Dopo che le sfere sono passate per la prima volta c'è stata una depressione momentanea nel grano. Sono scomparsi e questo non ha una relazione con i cerchi. Vedete i perimetri esterni? Questo è l'insieme di tutte le attività della formazione dei cerchi nel grano in una immagine. Di fatto questo si è formato per primo, dopo questo nella parte esterna, dopo questo grande nel centro, dopo questi e successivamente i più lontani, i più lontani, dopo le linee e i cerchi all'estremità. La sequenza è stata 1, 3, 2, 6, 5, 4 e così si sono completati. In conclusione il punto è che non trovo evidenze di falsificazioni nel video della formazione dei cerchi nel grano di Oliver Kessel. Troppo invece molte cose interessanti e sorprendenti che mi fanno pensare che possano essere immagini reali e che dovrebbero essere studiate più approfonditamente. Anche altri ricercatori hanno effettuato analisi sul video di Oliver Kessel non riuscendo a trovare alcuna prova di un qualsiasi trucco, sia digitale che di altro tipo. Nonostante ciò, ancora oggi, con teorie di varia natura e senza valide prove a sostegno, ne viene messa in dubbio l'autenticità. Nell'attesa di un definitivo ed unanime verdetto, è importante sottolineare che il filmato di Oliver Kessel non rappresenta una novità sul legame di queste sfere con i cerchi nel grano. Precedentemente erano già state avvistate filmate varie volte, aleggiare elegantemente sopra le spighe dove poi sono comparsi dei cerchi. Questo video, ad esempio, realizzato in Inghilterra negli anni 90, ne è una prova evidente. L'ipotesi della provenienza non terrestre di queste sfere è stata ulteriormente rafforzata dalla similitudine degli oggetti filmati varie volte nei siti dove compaiono i cerchi nel grano, con filmati precedenti in cui comparivano oggetti simili che eseguivano manovre non possibili ad alcun velivolo di origine terrestre. Queste sfere di luce, che potrebbero benissimo contenere in qualche modo una coscienza, potrebbero essere extraterrestri. Questi elementi sono stati riportati da tantissimi testimoni in questi anni. Queste piccole sfere fanno parte della storia. Durante la manovra di aggancio del volo dell'Apollo 17 fu filmata una di queste sfere bianche transitare velocemente vicino alla navicella terrestre. Questo filmato fu realizzato nel 1973 sopra l'Africa centrale durante un volo sperimentale del Concord. Il filmato è stato analizzato da esperti internazionali che ne hanno confermato l'autenticità. Questi documenti rappresentano un altro forte indizio della presenza di civiltà non terrestri sul nostro pianeta. Presenza che si fa sempre più vicina, sempre più tangibile, un escalation che porta gli studiosi a credere che il momento del contatto sia sempre più vicino. Si stanno intensificando sempre di più gli avvistamenti, gli atterraggi, i contatti, i rapimenti. Tutto questo sta aumentando perché stiamo raggiungendo la fine di un ciclo di tempo. Io credo che nei prossimi anni avremo un aperto contatto di massa con loro e ci stanno preparando perché al momento non siamo ancora pronti per questo. A questo contatto, come dice giustamente Robert Dean, gran parte dell'umanità non è preparata, anche se ormai è accettato da un numero relativamente alto di persone, il fatto che i governi, soprattutto delle due superpotenze, America e Russia, attuino una politica di totale occultamento su tutto ciò che riguarda gli UFO, la realtà extraterrestre e i cerchi nel grano. Una prova di questo l'abbiamo anche nella frequente presenza militare nei siti dove compaiono i cerchi. Sono stati visti fotografati, anonimi elicotteri neri, sorvolare le zone dove si trovavano dei pittogrammi e c'è la certezza che ad architettare alcune false prove e campagne di disinformazione siano stati proprio istituti governativi e militari. Vi prego di comprendere che il governo è costituito da persone. Non esiste una unica cosa monolitica chiamata governo. È gente. E la gente che ha il potere e crea la politica ha avuto paura per molti anni. Hanno mentito, travisato, hanno nascosto la verità alla gente. Hanno cercato di tenere la gente lontano dalla realtà degli UFO, dalla realtà dei cerchi nel grano, dalla realtà di quanto tutto ciò significa. E non ci sono riusciti, perché la verità sta per venire a galla. I governi piaccia o meno. È inevitabile il contatto di massa. Le chiese, i governi, sanno che questo accadrà e loro perderanno il controllo sulla gente. Stanno cercando disperatamente di posporre l'inevitabile. È un tentativo senza speranza. L'inevitabile accadrà. Certamente è auspicabile che questo avvenga quanto prima ed è fuori da ogni dubbio che sia di vitale importanza per noi tutti non farci cogliere impreparati e quindi prestare grande attenzione a tutte le manovre che cercano di occultare e screditare questi straordinari fenomeni e ciò che rappresentano. È necessario indagare con grande serietà ed attenzione e con ancora più grande apertura mentale. Sulla natura delle cause che stanno dietro al fenomeno dei cerchi nel grano, vi sono anche altre supposizioni. Si pensa che le civiltà aliene, oltre a cercare di prepararci ad un contatto di massa, stiano tentando di aiutare la Terra. Il nostro pianeta, messo in pericolo dalle dannose attività umane, starebbe ricevendo una vera e propria terapia di riequilibrio della sua struttura energetica. Una teoria, quest'ultima, che si rifà l'antica immagine di un pianeta vivo e senziente, dotato di un'intelligenza di natura superiore, concetto questo comune a molti popoli di vari continenti e riportato in auge dallo scienziato James Lovelock con la sua ipotesi Gaia. Ad avvalorare questa tesi vi è la constatazione che alcuni siti dove compaiono maggiormente i cerchi nel grano, quali Stonehenge, Avebury e Silbury Hill, sono tra i posti tradizionalmente più sacri dell'Inghilterra e sono situati su particolari linee energetiche del pianeta, assimilabili ai meridiani del lago Punture sul corpo umano. Questi siti corrispondono a punti focali, particolarmente attivi, di queste linee energetiche. Su questi luoghi vi è a tutt'oggi un forte numero di avvistamenti UFO, con comitanza forse non casuale, in quanto queste linee energetiche, nella loro struttura globale a reticolo, sono molto somiglianti alle linee ortotecniche, che rappresentano le linee preferenziali, dedotte statisticamente, su cui viaggiano e si mostrano gli UFO. Questa teoria è certamente straordinaria e necessita di ricerche molto profonde che determinino prove inconfutabili, ma che se dimostrata rappresenterebbe un grande segno di speranza per la nostra umanità e per il nostro pianeta. Sulla reale natura delle intelligenze artefici dei cerchi nel grano si discute con grande passione e certamente non mancano le polemiche, ma alcuni tra gli studiosi più qualificati ritengono molto probabile che vi siano entità coinvolte in questo fenomeno che vadano molto al di là del semplice concetto di civiltà aliene scientificamente e tecnologicamente superiori. Credo che un'intelligenza, un'intelligenza molto avanzata e molto spirituale, stia cercando di aiutarci, di prepararci ad eventi che stanno per accadere. Ci sono degli elementi che ci fanno pensare che loro controllino ciò che succede. La mia sensazione è che più che gli extraterrestri siano le forze creative positive ad intervenire. Stiamo interagendo con un campo organizzativo che è totalmente al di sopra delle nostre capacità. È un fenomeno misterioso, assimilabile a quello di Giorgio Bongiovanni. Va oltre la nostra comprensione. Quanto detto da Colin Andrews e dagli altri ricercatori, assume un'importanza particolare in questo tempo, in questa fine millennio, periodo fatidico insistentemente sottolineato nel simbolismo dei cerchi nel grano, fenomeno questo difficilmente influenzabile da umane tendenze millenaristiche. Il suo simbolismo e gli eruditi concetti da esso espressi sono ben radicati nella nostra storia e nella nostra cultura scientifica e trovano quindi dei riscontri ben precisi. Certamente alcune ipotesi devono ancora trovare ulteriori conferme, ma molte delle caratteristiche del fenomeno dei cerchi nel grano, emerse dalle indagini, ci portano a credere che realmente intelligenze di natura superiore si stiano lentamente rivelando all'umanità con un metodo delicato e di grande effetto. Come già detto, il potente ed affascinante simbolismo dei cerchi nel grano ha indotto un notevole cambio in positivo nella vita e nella coscienza delle persone che vi si sono avvicinate, ricercatori compresi, portando ad una maggiore sensibilità, ad una maggiore presa di coscienza sulla nostra reale posizione e responsabilità all'interno del pianeta e del cosmo stesso. Questi temi hanno sempre posto grandi interrogativi all'uomo, interrogativi a cui forse anche i cerchi nel grano potranno contribuire a dare una risposta, interrogativi la cui soluzione sarà di grande importanza per le generazioni del terzo millennio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.